Ciao ragazzi e ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di... come cavolo si chiama questo gioco? Ah giusto, rosso distorto, e da quant'è che non lo porto? Un bel pezzo. Ah sì, mi sono un po' dimenticato come funzionano le cose. Allora qua ci proviamo, e di qua c'era un... Boh, ricordatevi il coso, non mi ricordo più. E questo che fa? Ah, devi provare di per forza. Ok, vediamo cos'ha. Sto mandando avanti veloce. Mmm, non dovrebbe stare qui la testa, non credete? E beccato spero. Gli ho fatto abbastanza da roba. Qui è andato. Qua facciamo... app, come si chiama? Qua le vediamo come se fosse... Cioè, le vediamo come panini qua. Dobbiamo batterli tutti? Ok, anche questo qua ci vuole male. Zucca pelà. Ecco. Vabbè. 24, noi siamo a 17, male. Spero no. Beh dai, non l'abbiamo fatto poco, eh. È shottato. Un'altra cosa. Come si faceva? Un'altra katerpie. Beh, quello che rimane di un katerpie. Penso. Aspettate che ve lo ucciso, meglio. E anche questo ci viene shottato. Quasi shottato. Con due colpi può anche essere shottato. Perché devono essere sempre più forti di noi qua. Ma, mistero del gioco. Ma ci tolgono anche poco, eh. È forte il fiero qua. O quello che resta di un fiero. Unesimo. Oh no, si smentiscono mai. Gioco dopo gioco. Vedete che spammano sti attacchini così. Mi può anche andare bene. Zucca pelata. Beh, beh. Non lo so perché ha il cappello in testa. Morgan, chi è? Chi è sto Morgan? Va beh. Sarà tipo il boss finale. Oppure il boss di sto posto. Aha. Quindi vado avanti così, vingo, sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti con beccata. Vediamo. Sì, degli spaghetti con sopra degli occhi. Degli spaghetti. Questo è più forte. E si può vedere. Gli spaghetti all'anice con gli occhi sopra. Complimenti per... Perché vado avanti perché... Non credo che vi piaccia tanto. Cavolo, si è abrenato. Brava esperienza sto qua, eh. Ui. Dialoghi. Abbiamo qualcosa che curi? Sì, l'ho comprato per fortuna. Se noi eravamo spacciati, eh. No, non mi piace. Penesi. Un... Faccia strana con sotto degli occhi di plastica. Furia. Furia. Devo farlo. Tolgo, eh. Due. Mi bastava uno in più. Anzi, mezzo in più anche. Già. Duecentottanta. Capo in sé, ti ero questo qua o Morgan, mi sa? Ah. Mmm. Efedrina. Ah, eccola qua. Mi chieste Efedrina. Se qualcuno lo sa, è percato di scriverlo nei commenti. Eccolo qui. Chiesto qua. Sei venuto per spedare il grande amore. Combatti. Dialoghi esaurienti. Caspi. Caspi. Come? Allora, credo sia un... Ma non riesco a capire, non riesco a capire cos'è. Ditemi io. Ma il livello 40? Ah, arrivo. Ma quanto cazzo è forte? Eh, ci fu, ci fu tutto. Ma quanto cazzo è forte, oh? Abbiamo un revitalizzante o roba simile. Sì, però, beh, dov'è? Eh sì, subito. Però dai, non dite neanche divertente con gli occhi dietro, dai. E ce l'abbiamo fatta. Sì, due volte ce l'abbiamo trovato, ma... Cosa ti dice? Impossibile, infatti. Ah, ragazzo, avevo letto una A. Come su regolamento, avevo il premio, prendi questo Kaspin. Ah, non l'ho mai visto un Kaspin. Ah, è nato dall'unione di due Pokémon. Rattichetta e Bulbersacqua. Ah, ecco cos'era. Quindi comunque è molto forte, l'ho visto. Come è il 12, ma che è? Ma che è sta presa per il... Mi aspettavo di meglio. Credo che dobbiamo andare qua. Sì. Retrova. Taglio. Fa vedere? Dimmi di sì. Passiamo a cavallo. Si può battere con... Ah, ho capito, ho capito. Devo battere una palestra, ma non so dov'è. Qua c'è, 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 c'è. C'è un po' che... Sì, divertisce il mondo subito. Deve essere pieno e aprilo. Città di numero 2. Ok, è un po' strano questa cosa. Hmm? Ehi, ma tu sei? Una cosa? Ma che se non vi aveva niente? Ma che cazzo vuoi? Ragazzi, che usare il Team Rocket? Ma che minchia vuoi? 36? 19? Oh. Ma... Mi si ok, mi straccia, mi straccia. Ma io ci provo. Un'idea. Dov'è? Dov'è il tipo? Gaspin. C'è Spin. Questo con questo qua. Perché l'ho fatto? Salute con mia, caro della mia fissazione morboso. per i combattimenti, i Pokémon. Lo adesso è meno importante pagare il NES. Ah, è un affiliato, dunque. Mi è stato punito. Ha tolto? Come l'ha tolto? Mi ha portato qui, così che nessun denatore il potrà trovare e la mia passione si disseperà. Eh? Oh, il NES mi fungnerà. Meglio sperare della misericordia. E che devo fare adesso? Oh, almeno così li ha sparca tutta adesso, non lo usa per quello dopo. Si, ma che l'altro è fortissimo. E ora sì che sono pacche. Dov'è? Provo, provo con sonnifero, eh. Sembra che non mi sciotti. Dai! Ah, è andata, è andata. Ora cambio subito con... Chi dei due? Lui. Decisamente lui. Quando si si svegliava lo facevo tornare a dormire. Passiamo di toglissimo molto meno. Brutto col... Dai che va, dai che ce la facciamo che questo qui... No, 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 no. Bastardissimo. Prova, prova. Cioè, un colpo, un colpo basta. Uno, uno solo. Ma che tutti, tutti, tutti che crepano adesso. Mmm, tentativo inutile. Resistito. Campioni del mondo. Tangela al 15. Bene, che è spino al 13. Non è servito un cazzo, solo stavolta è servito. Oh, sei troppo forte. Ci ho provato 5-6 volte prima di batterlo, ma... Battuto da un membro non lo sono, ma puoi capirlo. Non ci posso credere di fare un rispar... Ma scu... Ma non è radness. Può vendere questo. MT03. Grazie per il mio risparmio, a te ci penseranno. È una minaccia? Va bene, va bene, adesso credo su... Dov'è, dov'è? Mettiamo... E ci ha sterminato la famiglia. Firo. Però dai, carne d'aida non si può sentire. Non si può sentire. Usa su... Su... Che... Cioè, come si pronuncia quello? Mmm, ho riuscito che... Hai mai servito qualcuno? Dobbiamo assolutamente curarci e salvare. Dov'è? Allora qua ci si cura. Salvare sempre, salvare sempre. Dopo, dopo, anche dopo avere... Dopo, anche dopo essere curato. Un'ora e trentasette. Si può battere con taglio. Usa un taglio. Bene. Salve, visitatore. Benvenuto in città. Questa è la chiesa della Santa Stamichia. Benvenuto, fratello. Evita di fare rumore. Ho azioni offensive. Non offenderei noi, ma il nostro grande padernesso. Sorry. Red trova... Vediamo, cos'è? Red trova... Non ho visto o niente. Ivi. Ah! Quello che serve, guarda caso. Il pastore Morgan è sempre stato prediletto per... 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 Ah! Non capivo. Questo cosa mi dice? Qual è il tuo passo? Beferito della Bibbia. Ness. Il mio senza dubbio. Morm. Non mi ludete. Né assassini. Né fornicatori. Né addio... Sss... Né... Né femminale. Né avari. Né avari. Avari ho detto. Nel redattore, né rapinatore, entreranno nel regno di Dio. Poiché hanno feso Ness, fine. Comunque belle stessa serie, eh? G... J... H... Ness. Sarà detto di sacrificio tanto a esso. Le carni pure lo inebreno. Credo di aver... Cosa? Pastore Morgan, fratelli, padre Ness. No, fratelli, virgola, padre Ness. Sarà contento della carne donata. Citiamo Maldern 1. E che? Avete inteso che fu detto, occhio per occhio, dente e dente per dente. 39. Ma io vi dico di opporvi al malvagio... Anzi, non sto capendo nulla. Anzi, se uno ti percuote la guancia testa, tu invece uccidilo. E' filosofia di vita. Amen. Se vuoi battezzarti, chiedi al pastore Mardok. Dov'è? Qua c'è una freccia. Che dobbiamo andare di qua? Oh, mi sembrava una freccia a me, eh? Il pastore Mardok. Dov'è il pastore Mardok? Questo qua? Vabbè. Allora, credo che bisogna torna... Ah, era spawnato il... Il sereno. Mi sa che proprio dov'è tornare all'inizio, ma proprio all'inizio, inizio... Dov'è la ca... No, non sta a casa. Non ci sono tanti abitanti. Ah, sì, sì. Ho sbagliato io. Tornate tutto indietro. Qualmeno questo è quello che penso io. Poi, se è diverso, tornerò qui. Perché ci sono salvo, così se sbaglio... Anzi, non so ne neanche salvare, dai. Prop Tangela è resistente. Ma... Mi meraviglio, come mi ha fatto a vincere contro... Contro i Brock? Come mi ha fatto? 36, 35, 17, 18. Piante di ganja. Bosco smerba... Ah, no. Sì, sono ancora con... Pokémon Maromar da 2. Ah, io ho già un pigiotto. E dai, dai, un passo, te ne trovi uno. Non ci sono i repellenti? Mettetene un po' di più che magari è così. Dai... Neanche velocizzato mi rompo, non mi svangò le palle. E se io... Ah, sì, il filosofo là. E se io non resistessi? Sei qua? Piove. Che notizia? Scupo il telegiornale. Piove. TG, TG, rosso distorto. Oh, quello che mi piace è Pozzanghere e nessun Pokémon. Sì, però che palle tornare indietro, dai. Oh, quello che mi piace è. 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 oh ce l'abbiamo fatta che cavolo ne avevo trovato i 30 dov'è il tizio abbiamo trovato un puntini 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 anche qua dialoghi esasperante dov'è il tizio che dovevo usare taglio eccolo qua spacchiamo un po' ottimo lavoro continua così amico mio grazie il trasporto è pronto anche te ora non puoi passare strano punto 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 il servizio nave all'inizio del 7 che ora sono hai ottenuto gabbia oro hai ottenuto gabbia oro vediamo quante ne ho posso stare qua a spammarle vuoi curare la tua squadra sì anche se non ho fatto decisamente niente hai ottenuto gabbia oro hai ottenuto gabbia oro hai ottenuto basta dai stiamo qua basta 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 qua c'è niente questo è il nest dei santi gli ultimi giorni è nata come religione verso il 3040 padre mardo che il nostro fondatore un totadio ha avuto una visione parlo di una nuova dottrina la vera 3 j h n s diffuse veramente il messaggio a padre mara do si quello e si scrisse il testo contenente tutte le promesse di dio questa chiesa è stata costruita nel 3045 grazie alle grandi predicazioni dei nostri fratelli mi sono rotto le palle di leggere fatelo voi a lungo mare c'è solo la fine della funzione vado a ricordare che persona non ha partenze della chiesa sta zitto eccomi devo cadonare indietro cosa vi ha insegnato il gioco salvare sempre voglio farne qua vediamo cosa c'è chiesa zitto hmmm la prima volta che vieni in chiesa permettimi di guidarti col compasso su di nostri piedi ah benissimo adesso mi tocca leggermi tutto ah devo anche dai no diciamo una volta zitto dai come vuoi di leggere grazie 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 facciamo questa chiesa qui di JKNS mi sembra e bel episodio vero? è stato un casino ho dovuto puntare tutto sulla fortuna perché praticamente ho fatto schifo ci vediamo al prossimo episodio ciao